Vincere un finanziamento europeo è una corsa ad ostacolo in cui sono poche le imprese che tagliano il traguardo. In Piemonte tante non ci provano neppure, ma raccomandano gli esperti intercettare i fondi comunitari è essenziale per crescere. Enrico Buona. Una rastrelliera per bici a prova di ladro dove ricaricare la batteria elettrica. Il prototipo non si può ancora mostrare, ma è pronto ed è valso a questa start-up torinese un primo finanziamento europeo da 50.000 euro. I fondi comunitari fanno volo a tanti, la competizione è alta, il successo per pochi. La nostra difficoltà principale non era tanto nell'idea, nel contenuto, nel progetto perché è stato ritenuto validissimo dalla stessa Commissione europea, quanto invece nella modalità di presentazione e quindi negli aspetti legati più al macchiage e quindi alla parte di commercializzazione e di marketing. Gli esperti della Camera di Commercio di Torino possono dare una mano a preparare un dossier vincente. Quali sono i tuoi competitor? Qual è la soluzione? Qual è il problema che tu vai a risolvere? Tutte domande che non necessariamente l'imprenditore innovativo si pone e invece quello che la Commissione europea valuta. L'EIC Accelerator Pilot è il programma con cui l'Unione europea sostiene le piccole e medie imprese che fanno innovazione. Quest'anno sul piatto ci sono più di 6 milioni e mezzo di euro, tra le quattro aziende italiane finanziate non una sola piemontese. Scontiamo una mancanza di dinamismo rispetto ad altre regioni italiane, una mancanza di volontà di provare a fare il salto con un'ambizione grande europea, perché spesso e volentieri le nostre imprese vedono il mercato locale come il primo mercato di riferimento. La difficoltà di attirare fondi ha aperto un mercato alle società di consulenza. A Torino c'è chi mette a disposizione gratuitamente il proprio catalogo online. In un unico luogo troviamo tutte le informazioni con tutti i bandi, sia europei che regionali che ministeriali, dedicate alle imprese. Questo è importante perché la difficoltà dell'utente è quella proprio di andare a reperire sulle varie fonti i singoli bandi e le singole opportunità. Se questo parcheggio automatizzato per biciclette vedrà la luce, sarà grazie a un nuovo finanziamento europeo, questa volta da oltre un milione di euro. Bisognerà meritarselo.